buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 11 ottobre 2024 abbiamo tante tante notizie oggi sui giornali resto del carlino corriere adriatico come sempre daremo molta attenzione alle notizie di carattere locale ma intanto procediamo attraverso l'almanacco del giorno e vediamo il santo di oggi eccolo è un santo molto molto noto e papa giovanni ventitresimo angelo giuseppe roncalli ebbene oltre alla sua immagine di papa semplice buono la sua immagine è un'immagine spontanea un'immagine quasi di una persona che vediamo tutti i giorni in realtà papa giovanni fu un grande diplomatico e soprattutto un grande riformatore ricordiamo che avviò il concilio vaticano secondo gettando un ponte su nove secoli di divisioni tra i cristiani d'oriente e i cristiani di occidente fu uno dei primi fece uno dei primi pellegrinaggi che poi proseguirono i papi ultimamente stanno girando ultimamente insomma da diverso tempo stanno girando un po in tutto il mondo ma papa giovanni fece il primo pellegrinaggio proprio vicino a noi qui vicino andò a loreto bene ciò detto passiamo alle previsioni del tempo abbiamo un tempo più stabile oggi anche se nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche isolato fenomeno nelle ore interne la temperatura è in calo per fortuna dobbiamo dire perché speriamo che speriamo che venga il freddo la zanzara tigre e insomma è un nemico da sconfiggere ebbene le temperature sono in calo venti ancora un po alta la massima 14 la minima e sulle coste i venti ispireranno da nord ovest mentre nell'entroterra da ovest sud ovest e il mare è emosso il sole sorgerà tra poco alle 7 15 e tramonterà alle 18 e 30 ciò detto passiamo alla lettura dei giornali e vediamo l'apertura sul corriere adriatico l'apertura che riguarda fano riguarda un rilievo di grande importanza quello che i tecnici della università politecnica delle marche stanno compiendo sulle mura romane ebbene un'indagine ad alta valenza tecnologica volano i droni sulle mura romane mappa completa dell'antica città è un tassello che si aggiunge alla carta archeologica del centro storico di fano ma questo è un tassello che navigherà sul web e sarà a disposizione degli studiosi di tutto il mondo è uno studio avveneristico quello che la politecnica su incarico del centro studi vitruviani e sta eseguendo e c'è una dichiarazione sono diverse dichiarazioni del professor paolo clini docente universitario sarà utile agli storici ha detto ma anche al turismo perché una volta che questo studio sarà sul web sarà a disposizione non solo dei studiosi ma anche di tutti e potrà anche da far sì che verranno utilizzate queste ricerche per realizzare quegli apparecchi tecnologici di ultima generazione che consentono di vedere le mura come erano veramente duemila anni fa e qui anche altri aspetti e la città come il teatro l'anfiteatro romano è quello che si suppone sia la basilica di vitruvio che ancora deve essere trovata ma ci sono diversi articoli che riguardano le mura oggi sulla stampa diamo un'occhiata a quanto si dice anche a fossombrone ecco qua l'articolo antiche mura e rocca malatestiana ecco i fondi a fossombrone sono stati stanziati 715 mila euro per finire il restauro e il consolidamento di questa parte medievale della città antica ammonta dunque a questa cifra l'importo previsto per il progetto esecutivo utile a completare il restauro e il consolidamento delle mura romane delle mura medievali ma vediamo che anche a pergola si parla di mura un milione per le cinte murarie i progetti di tre comuni vincitori ebbene si tratta di pergola sassocorvaro auditore e pian di meleto i tre comuni della provincia di pesaro urbino che si sono aggiudicati il bando regionale dedicato al recupero e alla valorizzazione delle mura storiche ebbene un milione è una cifra consistente anche se deve essere suddivisa da in tre comuni e dobbiamo dire che le mura fanno fanno la provincia le marche oserei dire gremita di antichi castelli che ancora conservano le mura originarie ebbene purtroppo queste mura sono molto molto fragili e imperversano su di esse i temporali le condizioni atmosferiche e avverse tant'è che diversi comuni hanno subito dei crolli ricordiamo bene quello di cartoceto ma anche altri più recenti ebbene le mura sono un patrimonio da preservare e questi soldi sono ben spesi per la loro manutenzione allora torniamo alle origini e vediamo quello che pubblica il corriere adriatico come seconda apertura eccolo qua un parcheggio all'ex vittoria colonna il sindaco serfilippi lo aveva annunciato e ora questa questo intento viene formalizzato è stato infatti sottoscritto l'accordo con l'invite che è il proprietario di tutto il complesso del vittoria colonna approvata la convenzione per utilizzare il parcheggio dell'area convitto vittorio colonna a fano in via monte grappa ebbene l'accordo prevede l'utilizzo dell'area esterna esterna come parcheggio pubblico circa 50 nuovi stagli sono 50 nuovi stagli prezziuti perché si trovano proprio a ridosso del centro storico l'ingresso al centro da parte di via cavour e lì proprio a due passi è anche più vicino del foro boario quindi sono 50 posti veramente ghiotti la prima ora sarà gratuita dicono appunto e gli amministratori mentre dalla seconda in poi si pagherà quindi per una commissione in centro andare e venire insomma in un'ora si fanno molte molte cose il nuovo bacino di sosta dovrebbe quindi attenuare una delle principali criticità in centro storico dove la mancanza di parcheggi insomma si fa sentire la convenzione stabilisce che l'invite garantisca la manutenzione delle aree compresa la potatura del verde invece da parte della amministrazione comunale si provvederà a realizzare il parcheggio l'illuminazione insomma tutto quello che riguarda l'area di sosta quindi una bella conquista fatta dal comune di fano che oltre al parcheggio della caserma paolini ora può usufruire anche di questa nuova area molto preziosa per il centro storico vediamo anche un articolo di cronaca che riprende un po la notizia che era stata pubblicata grazie all'intervento dei carabinieri di fano nella giornata di ieri ebbene vi ricordate quella famiglia di carrara che faceva la droga insomma faceva confezionava la droga all'interno del suo appartamento erano degli albanesi tutta la famiglia è stata arrestata compreso anche un ospite di casa ebbene il figlio davanti al giudice ha detto che gli altri non c'entrano nulla lui solo è il colpevole droga fai da te il figlio si prende le colpe e resta in cella in casa è stato trovato un chilo di cocaina per un valore di circa 80 mila euro libere i genitori il fratello e l'amico il giudice ha creduto alle parole di questa di questo figlio un 23enne che si è assunto tutte le responsabilità e ha disposto che resti in carcere mentre il fratello i genitori e l'amico sono stati liberati insomma non centravano poi abbiamo una presa di posizione oggi dell'ex assessore al welfare di comunità dimitri tinti in merito alla politica le linee guida che il sindaco luca serfilippi ha espresso per quanto riguarda la nuova configurazione dell'ambito sociale l'ambito sociale che in corso di trasformazione da parte della regione marchi con l'intento di farne combaciare i comuni con i distretti sanitari ma questa ancora è una delibera che deve essere resa esecutiva ebbene però c'è tutto un processo di discussione di confronto per quanto riguarda la gestione sappiamo benissimo come il centro-sinistra avesse proposto un consiglio di amministrazione che rappresentasse un po' scusate un amministratore unico il consiglio di amministrazione ha proposto il centro-destra un amministratore unico insomma che tenesse le redini ben salde dell'ambito mentre il centro-destra è di avviso contrario quindi c'è una dialettica molto molto importante per il futuro di questo servizio che dovrebbe equiparare tutto quanto si fa in senso sanitario sociale nella costa e nell'entroterra quindi prima l'entroterra era penalizzato perché arrivavano solo le briciole ora invece con l'ambito e le risorse regionali dovrebbero essere equiparamente distribuite vediamo ancora rubano il rame dalle grondaie cinque le incursioni a san costanzo ebbene proprio in questi giorni non è un caso isolato a diverse abitazioni a diverse abitazioni è stato sottratto la parte terminale delle grondaie che sono in rame in rame è un elemento prezioso un elemento che ha un suo valore nel mercato un lavoro minuzioso che ha riguardato anche le mura castellane si pensava a un caso isolato in realtà i residenti di cerasa si sono accorti che c'è stato proprio un raid dei ladri proprio intenzionati a rubare il rame ed ora insomma si cerca di individuare gli autori di questo furto più recentemente in particolare furti di grondaie si sono verificati in via veneto porto viro alla periferia di perugia il rame viene poi rivenduto nel mercato nero proprio nei giorni scorsi e insomma questa banda probabilmente si sta così muovendo in una sfera di territorio molto molto più ampia rispetto appunto quello locale quello provinciale della provincia di pesaro urbino vediamo anche la pagina dei ancona perché in ancona si sta svolgendo il g7 sulla sanità e la sanità è un settore che riguarda tutte le province marchigiane lo riguarda in modo particolare anche quella di pesaro urbino dove abbiamo diversi conti da regolare le carenze sanitarie sono state messe in evidenza dal presidio della cgl che si è svolto appunto l'altro giorno davanti al santa croce ma nel g7 di ancona si parla anche di dengue perché il caso di fano è un caso rilevante a livello nazionale e vediamo qui come il corriere adriatico tratta la notizia dengue il trend preoccupa ma con il freddo i casi in calo e c'è la buona notizia la buona notizia è che da qualche giorno non si sono più verificati nuovi casi di dengue quindi la zanzara sembra che lo diciamo sottovoce magari per non allarmare la zanzara sta un scomparendo sta diminuendo almeno come numero almeno per quanto riguarda i casi infetti la zanzara che è infetta e quindi inocula il virus nelle persone ebbene nelle marche non è una diffusione di massa c'è un così un atteggiamento rassicurante da parte dei tecnici al quale poi corrisponde altri tecnici che magari incalzano sulla pericolosità di questa malattia e sulla gravità dei casi che ci sono svolti nel nostro territorio insomma c'è chi rassicura e c'è chi invece spinge sull'acceleratore le marche conquistano dunque la ribalta mondiale i riflettori 12 del g7 della salute sono puntati in modo particolare sui 130 casi di dengue a fano su due di pesaro e sull'ultimo di macerata a macerata un diciottenne di tolentino che giocava a calcio a castelfidardo è stato infettato appunto dal virus il numero due è stata di un virus dei quattro che fanno parte che inoculano la dengue il virus della dengue insomma noi abbiamo il numero due le zanzare e a sono il vettore di trasmissione lo sappiamo ormai e stanno diventando più prevalenti e diffuse e stanno cambiando bisogna insomma agire in modo massiccia sulle disinfestazioni precoci in modo che insomma le larve non abbiano la possibilità di svilupparsi di diffondersi nel territorio e di causare i danni che stanno provocando questo per quanto riguarda ancona ora passiamo a senigallia e vediamo dove le proteste delle famiglie degli studenti che frequentano il corinaldesi che sono rimaste senza bus si trovano veramente nei guai perché sono famiglie che lavorano i cui orari di lavoro non coincidono con quelli scolastici e se devono accompagnare loro i figli a scuola perdono poi l'orario di lavoro e quindi il problema poi si complica per quanto riguarda i rapporti con il dottore di lavoro le famiglie dei ragazzi del corinaldesi non possiamo perdere il lavoro per accompagnarli e quindi si calza sull'emergenza della soluzione di questo problema. Per quanto riguarda invece Pesaro abbiamo l'interesse degli inquirenti sul caso dei servizi che sono stati delegati dal comune ad alcune associazioni blizzi in comune cinque uffici perquisiti. Indagato anche Pascucci si aggiunge a Esposto e Santini il funzionario dei lavori pubblici deve rispondere di falso. Poi abbiamo anche Arceci il capo gabinetto indagato quando mai dice lui stesso Arceci parla per sette ore dalle 9.30 faccia a faccia con gli inquirenti ovviamente questo argomento è evidenziato anche dal resto del calino che ha un po' iniziato questa campagna denominata Affidopoli blizzi in comune perquisiti Arceci e quattro dirigenti spunta anche il terzo indagato. Polizia e finanza in case e uffici. L'ex capo di gabinetto di Ricci appunto è Arceci ascoltato per sette ore ma non sono inquisito ha dichiarato. Torniamo ora sul Corriere Adriatico vediamo le altre notizie ovviamente c'è anche una dichiarazione del sindaco Biancani lui è estraneo a tutta questa vicenda dice mi aspettavo questo blizzi è ovvio che quando ci sono delle indagini in corso vengono perquisiti anche gli uffici io però non c'entro nulla sono qui solo da quattro mesi dice appunto il sindaco di Pesaro. Vediamo ancora e beh questo questo sta questo 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 problema questa vicenda questa inchiesta sta causando problemi per quanto riguarda la candidatura del sindaco Ricci a prossimo governatore della regione Marche una candidatura che stava configurando il partito democratico. La corsa di Ricci in regione rallenta Acquaroli e company brindano perché non sospettavano un aiuto così per quanto riguarda le frecce al loro arco in vista alla campagna elettorale. L'ex sindaco di Pesaro era il candidato in pectore del partito democratico nelle elezioni del 2025 ora il centrodestra e detrattori interni pronti a usare l'inchiesta di Pesaro contro di lui perché insomma se Biancani non è responsabile ebbene quando questo è accaduto sindaco era proprio Ricci. C'è stato un importante accordo che si è svolto in prefettura nella giornata di ieri per quanto riguarda la videosorveglianza nei negozi. Videosorveglianza e sicurezza patto prefettura e associazioni. Verrà costituita una cabina di regia con le forze dell'ordine per monitorare il protocollo. Che cosa dunque è stato fatto ieri in prefettura? Ebbene è stato siglato un protocollo d'intesa in materia di sicurezza tra prefettura e associazioni di categoria. Ebbene erano presenti la Confcommercio, la Confesercenti per la firma di un documento che in pratica cosa fa? Rafforza la sicurezza di attività commerciali e imprese attraverso un più ampio ed efficace servizio di sicurezza di videosorveglianza. Più telecamere ci sono e più insomma ardua dovrebbe così configurarsi le imprese dei malviventi ai danni dei negozi, in modo particolare quelli del centro storico. A San Decenzio arrivano 150 camper, tre giorni di iniziative all'aria aperta, visite in città e la premiazione del mezzo che da 40 anni frequenta questa iniziativa. Ebbene tutto questo è stato realizzato in collaborazione con il Camper Club italiano e la Vitifrigo Arena con il patrocinio del Comune di Pesaro. Vediamo anche quello che si dice per la dengue, abbiamo anche un articolo sulla pagina pesarese del Corriere Adriatico, dengue giocare d'anticipo in primavera. Ormai lo sanno anche i grilli che stanno cantando con poca soddisfazione nei campi perché dopo anche la disinfestazione incide su di loro. Con le disinfestazioni nelle aree private, insomma bisogna incidere, bisogna farle magari più ripetute perché il prossimo anno probabilmente questa malattia che non è da trascurare, non è da sottovalutare, si ripresenterà magari con la stessa aggressività. E allora passiamo subito al resto del Carlino. Vediamo l'apertura sulla pagina di Fano che è dedicata alla inchiesta per quanto riguarda i servizi attribuiti alla proloco, soldi alla proloco, eccole delibere. E poi vediamo ancora sul resto del Carlino. Benvenuti al Parc Vittoria Colonna, subito pronti i 50 posti auto. Siglato a Roma l'accordo tra il Comune e la società Envimit, proprietaria dell'immobile. Abbiamo già detto quale bel risultato è stato raggiunto. Dopo tanti anni questo Vittorio Colonna era chiuso ma aveva bucato da tutte le parti, era oggetto di invasioni abusive, di frequentazioni poco chiare, anche illegali, perché poi c'erano anche lì aspetti che riguardano gli stupefacenti, la droga e via dicendo. E poi passiamo invece ad un grido d'allarme, da un grido d'allarme che viene elevato da un residente. Si tratta del fosso di Ponte Alto di Torrette che è a rischio di esondazione. I residenti di Torrette denunciano il corso d'acqua è completamente ostruito da rami, fogliame e sporcizia, ma nessuno fa niente. Ebbene, questo è proprio una documentazione che un cittadino ha inviato al Comune, alla Polizia Locale e al Centro Operativo Comunale per prevenire eventuali danni, come poi invece si sono verificate nei giorni scorsi. Passiamo a San Lorenzo in campo. Poesia del Duce sul pane, bufera a San Vito. Che cosa riguarda? Questo articolo riguarda un incontro, una conferenza che si è svolta sul pane. Il pane è un alimento basilare della dieta mediterranea, è un alimento che insomma configura un po' tutti gli elementi, tutti gli elementi per una nutrizione adeguata ed è anche un simbolo, è un simbolo religioso, è un simbolo di carattere culturale, è un simbolo di carattere tradizionale. Ebbene, in un convegno dedicato al pane, un esponente di una associazione ha letto una preghiera del pane, senza dire chi l'aveva scritta. E poi in realtà si è scoperto che quella preghiera l'aveva scritta Mussolini. E qui sono nate tutte le polemiche, insomma, tra tutte le preghiere, tra tutti gli scritti sul pane, insomma, andare a pescare quella di Mussolini non è stata una gran cosa, ecco perché appunto ci sono state delle polemiche. Un altro ripetitore sui pali del Mancini in Sorge San Lagero, questo è un articolo che segue la riunione che si è svolta nella sala della comunità del Vallato contro l'antenna del Don Bosco. Il Comune aveva proposto che quell'antenna fosse spostata al Mancini. Ovviamente San Lazzaro non è d'accordo, ma non è d'accordo nemmeno la società che deve realizzare questa nuova antenna perché al Mancini non va bene e quindi è un problema che non dovrebbe porsi anche se il Comune l'aveva proposto appunto a Eliad. Ebbene questa era l'ultima notizia, non mi rimane il tempo è scaduto, non mi rimane che augurarvi una buona giornata e darvi un appuntamento sempre a domani alle ore 7. Grazie per l'ascolto e a risentirci. Grazie per la visione!